Viene considerato una grave scorrettezza istituzionale dalla coalizione di centrodestra l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale che inizieranno lunedì prossimo dell'adozione definitiva del piano regolatore generale, anche se definitiva proprio non è, dato che dopo l'approvazione delle osservazioni lo strumento urbanistico deve andare in provincia e tornare in Consiglio Comunale a Fano per essere confermato. Approvare in fretta il PRG in piena campagna elettorale significa, secondo l'opposizione, accontentare gli amici e disattendere le istanze di coloro che amici non sono. Tesi sostenuta dal capogruppo della Lega Gianluca Ilari, dalla consigliera Lucia Tarsi e dalla segretaria di Fratelli d'Italia Loretta Manocchi, dal segretario di Forza Italia Enzo Di Tommaso e dal segretario dell'Udc Stefano Pollegioni, ma soprattutto anche dal candidato sindaco Luca Serfilippi che è anche consigliere comunale. Sentiamo quest'ultimo. La nostra opposizione sarà fermamente contrario. Io lo chiamo un blitz di fine mandato perché sia nel merito che nel metodo questo piano regolatore che arriva a pochi giorni dalla scadenza del Consiglio Comunale, perché tra forse dieci giorni al massimo non si potranno fare più consigli comunali, è un atto di arroganza politica far pervenire un piano regolatore generale che guarda lo sviluppo della città veramente gli ultimi giorni del mandato. Qui viene proposta uno sviluppo senza la minima condivisione con i residenti della zona. Penso ad esempio allo zuccherificio, ma possiamo definire tante altre zone in tutti i quartieri. Ci sono una marea di varianti puntuali, anche osservazioni, che rischiano di essere oggetto di speculazioni politiche. Io penso che sia un unicum nella storia della città di Fano che il piano regolatore arriva il giorno dopo delle elezioni primarie di centro-sinistra. Quindi siamo in piena campagna elettorale, il centro-sinistra ancora non ha individuato il candidato sindaco. Pensate se Fanesi perde le elezioni primarie. Cioè l'assessore all'urbanistica, chi ha portato il piano regolatore il giorno dopo delle primarie potrebbe non essere il candidato sindaco. Ecco, io penso che questo piano regolatore e questa città non meriti di essere ostaggio di elezioni all'interno del centro-sinistra. Non possiamo approvare un piano regolatore in fretta e furia, blindando la futura amministrazione indipendentemente da chi vincerà, su un piano regolatore già vecchio, perché gli studi socio-economici risalgono a più di cinque anni fa. Il numero ridotto delle osservazioni rispetto alle osservazioni pervenute nel piano regolatore precedente, quando era al governo la giunta a Gozzi, non dimostra una sostanziale accettazione da parte dei cittadini di questo strumento urbanistico? Le 300 osservazioni sono 300 osservazioni perché è una maxi variante, non è un vero e proprio piano regolatore che va a sistemare alcune zone e devo dire illude, perché questo è quello che sta avvenendo in tanti quartieri, i cittadini che verranno realizzate queste famose community hub, che sono spazi di comunità che servono nei quartieri, ma che non vedranno mai la luce perché sono basati su studi socio-economici che non verranno mai realizzati. Eppure, Sir Filippi, dall'approvazione di questo piano regolatore dipende anche l'applicazione del piano casa che ha predisposto la Regione Mark? No, il piano casa è salvo, con la nuova legge urbanistica dal 1 gennaio, con l'accordo con il MIC stipulato la settimana scorsa, tutte le aziende e tutte le famiglie potranno ampliare del 20% la propria abitazione o la propria azienda, naturalmente salvo chi abita in centro storico. Non serviva approvare in fretta furia un piano regolatore a scadenza di mandato, bloccando e blindando anche la futura amministrazione. Erano ignari di questa cosa.